Ieri sera, nella prima intervista rilasciata ad una TV israeliana dal 7 ottobre, Benjamin Netanyahu lo aveva ribadito, non allenteremo la presa su Gaza fino a quando Hamas non sarà distrutta e, mentre lo diceva, l'aviazione israeliana colpiva quella che era una scuola delle Nazioni Unite diventata un centro per la distribuzione degli aiuti a Gaza City, uccidendo otto persone, mentre altre due persone, due operatori sanitari, venivano uccisi nel bombardamento di una clinica, sempre nel centro di Gaza City. Colpiti diversi obiettivi anche a Khan Yunis e nel sud della striscia, queste sono le immagini del raid aereo che ha ucciso Muhammad Salah, ritenuto il responsabile dello sviluppo delle armi di Hamas. L'intensità dei bombardamenti e la mancanza di luoghi sicuri che costringe gli sfollati a spostarsi in continuazione sta avendo conseguenze drammatiche. A Gaza sono spariti 21.000 bambini, minori di cui non si sa più niente, denuncia Save the Children. Alexandra Saier, responsabile delle politiche umanitarie dell'organizzazione, spiega che circa 17.000 bambini potrebbero essere stati separati dalle loro famiglie senza che finora siano riusciti a ricongiungersi. Altri 4.000 potrebbero essere invece morti e di loro corpi sepolti sotto alle macerie dove nessuno scava più. I negoziati per una tregua e la liberazione degli ostaggi sono ormai fermi da settimane e all'irrigidimento di Hamas da una parte fa eco quello di Netanyahu dall'altra. Il premier ha dichiarato infatti che se anche dovesse esserci una tregua la guerra sarebbe destinata a durare un passo indietro rispetto al piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Gli ostaggi che vengono abbandonati a Gaza e un'altra guerra, quella con Hezbollah che rischia di scoppiare, dimostrano che Netanyahu non è adatto a governare il paese. Dicono i manifestanti che questa mattina sono tornati a chiedere le dimissioni del governo bloccando l'autostrada 2 nei pressi di Tel Aviv.